scusa niente di un po di cremi no bassi bassi già la ciava ciò perché lo so c'è una maniera spazio tra i ragazzi un po di cremi ma quindi ma questo partito io metterei un'azienda si può creare dei consulenti però sceglie possibilmente persone che già hanno un'esperienza di vita visto perché non